Ben ritrovati dalla redazione di news24.city. Monopoli, spaccio e distorsione continuata in istituto professionale. Arrestato, bullo, 15enne, il giovane coinvolto nella morte del 77enne, spinto dagli scogli. Motola, scontro fra due furgoni e tre auto sulla statale, 100. Muore una 54enne, 6 feriti. Nello stesso punto morirono 4 persone a Capodanno, pioggia possibile causa dell'incidente. Francavilla Fontana, 150 denunciati per il riparti di Capodanno, 6 sono minorenni, partecipanti da diverse nazioni, hanno danneggiato le colture oltre ai muretti di recinzione. Lecce, omicidio Noemi, minorenne, era capace di intendere, volere, lo ha stabilito, la perizia del tribunale messa a punto dai consulenti Zafferano e Felline. Bitonto, scoperta base logistica e dispaccio in locale, abbandonato, arrestato, 23enne, sequestro di oltre mezzo chilo di droga tra marijuana, hashish e cocaina. L'Aiatico, premio Mediterraneo Città di Andria 2018, ad Andrea Bocelli, una delegazione andriese, effettuata la consegna presso la tenuta del maestro. L'Aiatico